musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi oggi ancora grandissime novità per quello che riguarda i nostri giorni futuri di fortnite allora ragazzi innanzitutto va meraviglioso innanzitutto il nuovo glider quello con lo squalone chi l'ha preso beato lui io ho lasciato perdere no ragazzi oggi dobbiamo assolutamente parlare di alcune cose che sono nuovamente venute fuori per android e come sempre non posso non ringraziare il mio team di informatori il fabione illitto haidin e altra gente che quello che succede su twitch e youtube ovviamente che ogni giorno cercano di prepotenza leaks e informazioni ufficiali esclusive per voi siamo veramente veramente vicinissimi ragazzi sono stati recuperati dei file che probabilmente saranno inseriti non abbiamo ben capito dove ma si pensa che siano dei file inseriti nel telefono per quando si scaricherà dal play store fortnite su android e che serviranno per fare l'autenticazione ufficiale con l'account epiki in modo da non perdere il profilo intanto ragazzi ci sono veramente un sacco di novità per questi giorni che stanno arrivando di fortnite oggi addirittura era in programma l'update sembrerebbe io non ho ancora verificato di persona ma mi è stato detto che hanno deciso di rimandare l'update di oggi per cause ancora abbastanza sconosciute update che avrebbe portato un grandissimo ritorno su fortnite ragazzi oggi sarebbe dovuto ritornare il famosissimo missile guidato non so se ve lo ricordate quando ad aprile ci giocavamo marzo fine marzo inizio aprile che c'era questo missile teleguidato che potevi appunto pilotare da una zona remota della mappa rimanendo un pochettino più nascosto e parecchio più arretrato rispetto al team e il rocket che tu andavi a guidare si schiantava proprio nella posizione desiderata visto che lo manovravamo con il mouse hanno detto nelle notizie che torna il missile guidato ma in una veste completamente nuova quindi sembrerebbe e l'avevano già anticipato che sia depotenziato anche un bel po speriamo ovviamente se non ricordo male ho letto delle statistiche che dicono che il missile teleguidato nuovo toglie tipo 24 una cosa del genere faccio prima fai a corengina addosso con la pistola silenziata però comunque avere un'arma che colpisce dalla distanza che puoi manovrare a pieno non è ovviamente da buttare via quello che ragazzi volevo invece farvi vedere di cui vi ho parlato all'inizio attenzione attimo sono due immagini molto molto carine 3 2 1 scrembili guarda qua questa è palmi suggerisce il verso dell'immagine che appunto in verticale potrebbe tranquillamente essere presa da un cellulare che questa è la prima delle due immagini che troveremo al momento del download di fortnite su android cosa dice l'immagine fortnite battle royale on the go quindi in poche parole è uno slang on the go si usa quando tipo vai all'estero sai che all'estero ci sono i negozi che ti vendono il caffè da portare via loro da portare via lo chiamano on the go e quindi dici one coffee on the go un coffee da portare via e da usare in strada qua dicono fortnite battle royale on the go quindi non si può giocare dappertutto same gameplay same up same weekly update lo stesso gioco stesso gameplay la stessa mappa gli stessi aggiornamenti settimanali quindi ci vengono confermati ci viene confermato da questa immagine che anche la versione android sarà assolutamente identica alla versione per pc con tanto di update settimanali sfide armi nuove location nuove tutto quello che può essere parte di un update download ed install fortnite through your browser scarica e install fortnite tramite il tuo browser e poi c'è il tasto per cliccare get started dove possiamo fisicamente andare a scaricare fortnite come vedete mi suggerisce che è stato preso ufficialmente dal sito di epic games così come è ufficiale la seconda immagine l'ultima di oggi eccola qua ragazzi once you download you will be prompted with some security permissions in poche parole questa è quella che vi dicevo prima è l'autorizzazione in più che voi date epic games per proteggere il vostro download e i vostri dati personali così importantissima assolutamente da fare quindi loro ci dicono una volta che tu hai scaricato tu sarai proiettato in sia tu avrai l'obbligo di accettare alcuni permessi di sicurezza in poche parole questo è necessario per installare qualsiasi app al di fuori del play store quindi ragazzi la domanda adesso ci sorge spontanea siamo sicuri che andro che fortnite su android si appoggerà a google per il play store ma secondo me vista questa immagine no sì io on the battle bus ci vediamo nel pass nel nell'autobus da battaglia cita l'ultima riga potrebbe ragazzi essere tranquillamente una pk scaricabile dal sito che non si appoggia a google play store il che vuol dire appunto non succede nulla ci mancherebbe la scarichiamo esternamente ma è molto curioso cercare di capire cioè immaginarsi quanto abbiano fede quelli di epic games e come non dargli torto sul proprio prodotto che possono tranquillamente permettersi di non appoggiarsi a google play store per la promozione della propria app quindi ragazzi staremo assolutamente a vedere sappiamo che il 24 agosto uscirà sul samsung note 9 sappiamo che dal 23 settembre sarà invece disponibile il download per tutti per il momento però ragazzi ci possiamo divertire con un'altra cosa che tra pochi giorni troveremo ragazzi più di una quella che state vedendo ragazzi è una parte del video che adesso vi farò a partire di tutte le nuove emote che andremo a poter acquistare nello shop nei prossimi giorni le andiamo a vedere insieme ragazzi e le commentiamo ci facciamo due risate questo si chiama intensity questo è meraviglioso non è male questa molto tectonic deve essere il bello del vichingo questo questo si chiama living large life is good dice ma perchè ma perchè ma perchè ma che cos'è questo è finger bog oh bella questo le hand signals queste ragazzi erano le quattro emote che arriveranno prestissimo sul nostro fortnite beh ragazzi direi che ne abbiamo veramente viste tante anche per oggi abbiamo scoperto qualcosa in più sulla possibilità di trovare il nostro fortnite per i nostri dispositivi android abbiamo visto i 4 nuovi balli non ci resta ragazzi che aspettare adesso l'arrivo della skin di twitch prime e cercheremo di capire se c'è la possibilità di ottenerla come già avevamo fatto nella skin di twitch prime 2 io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando ragazzi super pollicione in su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ragazzi qua nei commenti ditemi qual è stato secondo voi il vostro ballo preferito tra i quattro che avete visto noi ci vediamo in live ciao